È stato l'esempio di tutto l'anno, ma anche di questi quattro anni, perché alla fine già siamo partiti con Pagliari, che l'abbiamo perso nel riscaldamento, il giocatore un po' simbolo della squadra, il capitano, e si è fatto male due minuti prima di entrare. Quello già faceva esagerare che partita ci aspettasse, dovevamo fare, invece siamo stati dai bravi, abbiamo sofferto un po' l'inizio per prendere le misure, però poi abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio, ci siamo andati, poi nel secondo, magari quando fai il 2-0 c'è un attimo, ti puoi anche un po' rilassare, c'è stato questo rigore che l'ha riaperta e quindi alla fine abbiamo sofferto, fino alla fine, però senza soffrire si ottiene poco, sono molto contento perché credo che ce la meritassimo, al di là di questa partita, io, per la mia valutazione generale, quattro anni che ci proviamo senza silli, però sai, quando arrivi sempre vicino all'obiettivo e fai fatica a prenderlo, ci rimane sempre un po' di amaro, invece la bravura nostra è stata quella sempre di ripartire e provarci comunque, perché quest'anno perdere il campionato, l'ultima giornata per un punto, poteva ammazzare a tutti, invece abbiamo vinto i nostri play-off, abbiamo vinto due play-off nazionali, insomma sembra una cosa scontata, ma non lo so.